Una sessantina di sedi e 83 mila iscritti, 17 mila a Rimini. Sono i numeri della CISL Romagna che oggi ha celebrato a Cesena il suo primo congresso territoriale che sancisce l'unione di Forlice-Zena, Ravenna e Rimini. Un processo che ha richiesto un anno di lavoro e anche qualche discussione. Devo dire che non è stato semplice, le discussioni come sempre ci sono state e sono state anche discussioni che ci hanno permesso di capire alla fine che comunque questo passo era il passo giusto. Noi non vogliamo annullare le differenze né tantomeno smontare le tante buone cose che nei territori esistono e infatti lanciamo l'idea di un grande patto per l'area della Romagna. Questa crisi che sta colpendo in maniera anche molto pesante il nostro territorio, anche il territorio romagnolo, è uno dei primi temi che dovremmo affrontare, anzi il primo tema che dovremmo affrontare. Domani i delegati eleggeranno il primo segretario della Cisla Romagna. Un percorso di unione riuscito al sindacato è fallito invece a livello istituzionale, dove il riordino al momento è stato bloccato dalla caduta del governo. Oggi quel processo che era iniziato con il riordino istituzionale della provincia unica di Romagna, a quale noi Rimini e Ravenna avevamo subito aderito, avevamo subito condiviso, di fatto è un processo che non avrà una conseguenza. Adesso bisogna preoccuparsi, come ha fatto la Cisla, di capire come possiamo garantire quella prossimità nel servizio al cittadino, quella capacità di continuare a garantire in termini di efficienza e efficacia la qualità del servizio. Quando guardiamo le cose un po' dall'alto vediamo che comunque siamo tutti troppo piccoli per contare veramente, per fare quelle grandi cose che invece la Romagna si merita. Quindi io credo che sia una necessità quella di mettersi insieme, i localismi vanno superati, ci sono tanti ambiti dove scegliendo insieme possiamo veramente avere il meglio e credo che lo dobbiamo alle nostre comunità, questo non è solo una necessità e credo sia un dovere delle classi dirigenti ovviamente a cominciare da quelle della politica.